Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sul raccordo Lucca-Viareggio per incidente è chiuso il tratto tra Lucca-Ovest e l'allacciamento per la 11 in direzione Lucca. Chiusa anche l'entrata di Lucca-Ovest nel tratto, il traffico è bloccato. Sulla FIPILI per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Sulla A15 per lavori è chiusa l'entrata di Bercito in direzione La Spezia. Sulla A11 le aree di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa e Serra Valle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL per un guasto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!